Ciao a tutti che mi seguite su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter Allora voglio fare questo video Scusate, ecco, adesso mi si vede meglio Voglio fare questo video per mandare questo messaggio al governo Governo Egregio governo Egregi onorevoli, egregi senatori Allora, e deputati Volevo dire che i disabili siamo tutti dal 74 al 100% Non è che quelli del 100% a loro gli aspetta l'aumento di invalidità e a noi no Dobbiamo vivere tutti in questo mondo Dobbiamo vivere tutti Perché i disabili sono creature fatte dal Signore che sta in cielo Vi dico Dal Signore che sta in cielo Anche se poi ci hanno fatto nascere i nostri genitori I nostri genitori sono stati creati dal Signore Siamo tutte creature del Signore Ecco Voglio che riconoscete che anche chi è invalido dal 74 al 99% E gli deve aspettare pure l'aumento anche a noi Che non abbiamo il 100% di invalidità Gli deve aspettare Non che fate una legge Solo per chi ha il 100% di invalidità Gli aspettare l'aumento secondo l'ISE Secondo il reddito Perché non tutti gli invalidi lavorano Non tutti abbiamo il nostro reddito personale Per esempio io non ce l'ho Il mio reddito personale Io vivo con i miei genitori A carico dei miei genitori Non posso permettermi neanche di fare la patente La macchina Perché non lavoro Non ho neanche una vita sociale Non ho niente Solo Percepisco solo 297,14 euro al mese Per il 2020 Che Se non ci fossero i miei genitori Io come camperei Di aria Cioè voglio che Che il governo capisca queste cose Che faccia una legge anche Per l'aumento di invalidità Per tutti gli invalidi Dal 74 Al 99% Ma anche quelli di 100% Già ce l'hanno L'aumento quando gli arriverà Non so quando Però Voglio dire Non dovete discriminare così Governo Noi Noi come campiamo Come abbiamo la dignità nostra Se non ce la date voi Governo Cioè Cioè io Ho 34 anni Sono figlia unica I miei genitori C'hanno 72 anni Mia madre E 67 anni Mio padre Mia madre È invalida Pure lei Ecco All'accompagnamento Al 100% Al 100% Di invalidità Con accompagnamento E E E hanno lavorato I miei genitori Per fortuna E adesso sono pensionati Io invece Non ho mai lavorato Ho sempre fatto Ho sempre fatto tirocini Ma di pochi euro Solo che Non riesco a trovare lavoro Perché per alcuni lavori Come Scaffadista Come Cassiera Chiedono Cercano L'età D'apprendistato Io Mai l'ho passata L'età D'apprendistato E quindi Non mi prendono Chiedono Questo requisito Di età Poi Chiedono La patente Chiedono La macchina Ma se io Non trovo lavoro Come posso Fare la patente La macchina E poi Non si sa Se io riuscirò A prendere La patente A primo colpo Cioè Anche questo C'è da mettere in conto Eh Quindi Cioè Io Devo Devo trovare Devo Qualcuno Che mi trovi Anche un lavoro Che abbia Le conoscenze Dove Cercono Personale Che Mi faccia Che mi dia Una dritta Che mi trovi Un lavoro Adatto Alle mie Possibilità Perché io Sono Delle categorie Protette Pure Però mi adatto A tutto Eh Un abito A tutto C'è E Solo che Mentalmente Certe volte Faccio fatica A fare i conti Ecco E mi tocca Usare la calcolatrice Oppure le dita E Perché io Sofferto di Epilessia parziale Da piccola Dai 6 ai 13 anni E Insomma Avevo il sostegno A scuola Ecco E Mi è stato Riconosciuto Il 75% Di invalidità Dopo che ho fatto L'aggravamento Prima avevo il 46% Poi ho fatto L'aggravamento E mi è stato Riconosciuto Il 75% Però Cioè Anche se percepisco Questa Tensione di invalidità Non è il massimo Sinceramente Se ci fosse Un aumento Sarebbe meglio O Stato O mi trovate Un lavoro Per avere Una dignità Oppure Mi date un sussidio Qualcosa Di soldi Per campare Perché Un giorno Quando non ci saranno più I miei genitori Io che Come campo Come vivo Come Come mangio Cioè Cosa mangio Cioè Io ho anche problemi alimentari Non è che posso mangiare Tutte le cose E poi Cioè Come mi vesto Se ho bisogno di Di farmi I vestiti Come devo fare Come li devo pagare Con Pochi euro Con 297 euro e 14 Cioè Non lo so Quindi Cioè Fate qualcosa Governo Fate qualcosa Con questo messaggio Voglio Voglio che Che abbiamo Una dignità Anche noi Dal 74 A 99 Per cento Non è che Dove Campare sempre A carico Dei genitori Io voglio essere Anche indipendente Economicamente Nella vita Eh Voglio aiutare I miei genitori Economicamente Perché mi hanno Cresciuta Cioè Questo Voglio dire Voglio mandare Questo messaggio Che arrivi a più persone E che arrivi E che arrivi Davvero ai politici Che gli entra in testa Ai politici Queste cose Che devono aiutare Prima gli italiani Perché qui Siamo in Italia Va aiutato Prima il popolo Italiano E poi le altre persone Prima tutto Il popolo Italiano Va aiutato Soprattutto I disabili Soprattutto I disabili Perché hanno più difficoltà E disabili A integrarsi Nel mondo Eh E poi Ecco Fine Vi mando un saluto Spero che Che qualcuno Ascolti Questo messaggio E mi dica qualcosa Che cosa ne pensa E Se ha qualche Conoscenza Di Di qualche posto Io lavoro In Gorla Maggiore E provincia Dove posso Dove posso arrivare Con i mezzi pubblici Pullman E E treno Oppure Con la macchina Con mio padre Accompagnata da mio padre Che è l'unico Che Che ha la patente In famiglia Eh Quindi penso Anche a questo Penso Eh E C'ha già 67 anni Mio padre C'è Non è più Tanto Giovane Eh Vorrei anche io Avere la patente Anche perché I soldi Non mi servono Solo per fare Per fare la patente Mi servono anche per Curarmi un po' Che sinceramente Sono un po' Trascurata Dovrei sistemarmi i denti Per esempio Io so Già So In quale dentista andare A me Mi serve Proprio un lavoro Un lavoro Per Per guadagnare Per avere un futuro Anche Perché Sino che futuro ho? Che dignità ho io? Ecco Buon tutto a tutti E grazie di avermi ascoltato In questo discorso E grazie a tutti